Mi chiamo Alessandra Nencioni, sono il capitano del CF Florentia. Sono nata il 3 marzo 1989. Il mio ruolo è trequartista e il mio numero di maglia è il 10. Gioco con il numero 10 perché è il numero che rappresenta il mio ruolo. Se però dovessi scegliere un altro numero penso che otterrei per il 17 perché è il numero che scelsi quando cominciai a giocare in Serie A, quindi è il mio primo numero in Serie A, è la prima maglia con il mio nome dietro e anche la prima maglia con cui ho segnato all'esordio in Serie A. La mia passione è nata giocando a calcio in giardino con mio fratello e mio nonno che mi hanno trasmesso questo amore per il calcio. Ma il merito è di mio nonno che ci portava sempre l'allenamento. Nella vita oltre a giocare a calcio lavoro in un bene breakfast e per conciliare tutti gli impegni faccio tanti sacrifici come le mie compagnie di squadra. Nella mia carriera calcistica ho avuto la possibilità di giocare nella Cissi Attle, una squadra che ha militato nella WPSL, la seconda divisione americana. Quello che manca in Italia perché il calcio femminile possa crescere è l'interesse e la passione dei tifosi e delle persone che investono in questo sport ed è quello che invece fa la differenza nel calcio femminile in America. Un ricordo significativo che mi lega al CF Florenti è sicuramente l'aver ricominciato a giocare a calcio perché avevo smesso e il Florenti mi ha fatto ritrovare la passione. Dopo un anno di pausa ho deciso di cominciare a giocare perché ho incontrato Diagio Mangiali, il vicepresidente del CF Florentia. Ho visto il suo entusiasmo per questo sport che in realtà ancora non conosceva e ha riacceso in me la passione che avevo lasciato da parte per un po'. Il mio hashtag è dream it then do it. Ho scelto questo hashtag perché tradotto significa se puoi sognarlo puoi farlo. È legato a una stagione molto importante della mia carriera calcistica, una stagione in cui penso di essere cresciuta molto ed aver imparato molto. Quindi ho scelto di portarlo con me. Dal mio futuro mi aspetto di togliermi ancora tante soddisfazioni calcisticamente parlando e spero di poterlo fare col CF Florenti. Spero di vedervi sugli spalti o magari in campo con noi. Ciao!